Bene, siamo qua a Scandicci con i nostri brevissimi portavoci regionali e comunali. Sembra scongiurato lo sfratto della famiglia Tallarico. Cercheremo di far prevalere le ragioni del diritto nei confronti delle ragioni della forza. Non è possibile che vengano compiuti altri sopplusi nei confronti dei cittadini. Quindi ringrazio soprattutto gli attivisti locali e i nostri portavoci che si sono battuti perché si arrivasse a questo. Io ho fatto soltanto l'ultimo tratto di strada con loro, ma la strada l'hanno aperta loro con le loro battaglie. Grazie a te Mario per la tua presenza. Questo serve ad alzare il livello di attenzione che da un piccolo comune italiano come quello di Scandicci arriva a conoscenza di tutta la regione e di tutta la nazione. Perché sembra essere questo uno stesso sistema che viene usato da diverse cooperative, da diverse associazioni, chiamiamole così, a che scopo ancora lo dobbiamo stabilire. Sembra economico, no? Sì, io intendevo un altro tipo di associazione a scopo meno nobile. E questo chiaramente è, ripeto, un sistema che viene adottato in tante parti della regione purtroppo, ma sembra che sia anche adottato in tutte le parti d'Italia. Lo diciamo chiaro, per estorcere ai cittadini denaro, denaro non lo vuole. Noi lo diciamo ai cittadini, non siete più soli, ci sono i nostri portavoci regionali, comunali, nazionali, siamo i vostri portavoci, rivolgetevi al movimento, non sarete soli nelle vostre battaglie, ribellatevi. No, 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 certo, no, la vehemenza che è sempre positiva del nostro senatore, che ho il piacere, l'onore di avere sempre qui al fianco, quando poi scopriamo che alla fine veniamo tutti da questa meravigliosa isola che è la Sicilia, perché nonno Eugenio di Porto Empedocle, parlo di Eugenio Cantone, e alla fine scopriamo che a Porto Empedocle i cittadini stanno capeggiando una rivolta popolare incredibile con la nostra Ida Carmina, che è bravissima, la candidata sindaco, quasi il 40% al primo turno, e che è incredibile, sono muti big per quella campagna elettorale. Stiamo parlando chiaramente delle ultime amministrative, e abbiamo anche lì l'esempio di un attivismo così valido, così attivo, appunto come quello che è qui a Scandici, come quello dei nostri amici, cito dei nomi a caso, da Nicola a Marco a Jessica a Gabriele, sono qui che stanno facendo sì che tutta l'attività del Movimento 5 Stelle a tutti i livelli sia portata a conoscenza di tutti. Libereremo presto anche Scandici. Libereremo anche Scandici. È una bellezza far parte di questa filiera virtuosa che è il Movimento 5 Stelle, che parte dai piccoli problemi locali, anche noi seguiamo questa vicenda di Giuseppe da più di due anni. È stato tanto piccolo, è uscito 300.000 euro, non è che stiamo parlando di brusco. È piccola nel mare dell'illegalità, chiamiamola così, diffusa che c'è in questo paese. Ed è un piacere che da consiglieri comunali si sia attivato il Consiglio regionale, si sia attivato i nostri portavoce in Parlamento. Questa è la filiera 5 Stelle, come le ultime amministrative hanno dimostrato che l'ondata sta salendo, la marea sta salendo e questa è una cosa molto bella. Un invito a tutti i cittadini, non sentiatevi soli, non sentiatevi abbandonati. Il Movimento è i cittadini, sono i cittadini, quindi rivolgetevi senza indugio. Quando ci sono problemi, segnalateli. E anche su questo campo, di cui parliamo oggi, delle cooperative, vi invitiamo a segnalare, a contattarci per segnalare tutte le irregolarità che ci sono sul territorio. Ci risulta che non solo Scandicci sia per baso da questa problematica, ma abbiamo anche degli altri problemi a San Minato, abbiamo degli altri problemi a D'Arezzo, abbiamo degli altri problemi a Livorno, abbiamo degli altri problemi a Carrara. Quindi questi sono quelli conosciuti, quindi invitiamo anche altri comuni che hanno piani di edilizia popolare, che presentano tutti più o meno le stesse caratteristiche e le stesse pecche di legalità, a segnalare questi problemi e non saranno abbandonati, non saranno lasciati soli. Grazie a tutti i cittadini.